A tervi invito e nello stesso tempo mi scuso perché se io purtroppo devo andare via quindi non riuscivo a rimanere durante la discussione. Però volevo appunto dare il nostro contributo come azienda anche se poi noi non siamo produttori e non commercializziamo dei monouso però noi abbiamo veramente tanti imparaggi. È un'azienda che si è diversita da tantissimi in questi ultimi anni e di conseguenza i materiali che vengono utilizzati sono diversi che vanno da materiali, chiamiamoli tra virgolette, semplici come una plastica monoledia a materiali un po' più complessi, a dei poli accorpiati, poli accorpiati di carta e così via. Quindi è un'azienda che per stare sul mercato e per dare garanzie e sicurezza del prodotto alimentare e soprattutto per garantire determinati shift life ha bisogno di determinati tipologi di packaging. Questo è una partenza su cui dobbiamo basarci tutti quanti perché tutto quello che poi sono le sentenze, quelli che sono i decreti chiaramente a volte purtroppo non fanno riferimento a quelle che sono le esigenze non tanto dell'azienda, ma io dico del consumatore finale perché stiamo parlando di un consumatore io se faccio un latte fresco e lo conservo in una bottiglia è chiaro che so che dovrebbero un packaging da conservarlo con determinate caratteristiche quindi abbiamo bisogno di caratteristiche da parte di quella bottiglia in questo caso di questa plastica se faccio un prodotto UHT io adesso parlo di prodotti che hanno una shift life molto più lunga chiaramente non posso fare più riferimento a un materiale plastico che aveva una shift life in 7 giorni questo è chiaro quindi o io so che il mio prodotto per darvi una shift life lunga lo conservo in determinati contenitori che mi dà garanzia altrimenti il rischio di non portare quel prodotto alla sua shift life che cosa subentra? subentra un altro problema in Italia di cui se ne parla tantissimo che è lo specco alimentare quindi noi dobbiamo cercare anche di mettere insieme questi protiloni quello che può essere una riduzione della plastica una riduzione dell'imballaggio e dall'altra parte però utilizzo meno l'imballaggio perché questo si parla ma sono cose su cui io non sono così tanto d'accordo però dall'altra parte c'è una tematica grossissima che è quello dello specco alimentare adesso non parliamo di spreco perché i numeri sono veramente molto importanti anche sul tema dello spreco cosa ha fatto la nostra azienda? la nostra azienda si è posta un obiettivo nei prossimi anni nel marco dei tre anni che si focalizza esattamente su quattro punti il primo punto per noi significa comunque riduzione della plastica la riduzione della plastica è intesa nel senso che dove possibile noi dobbiamo cercare di ridurre se c'è un prodotto che ha il suo peso e ha la sua quantità di plastica l'obiettivo dell'azienda è quello di ridurre quel quantitivo di plastica esempio classico l'azienda parte nel 99 con una bottiglia di plastica del latte con un peso di 28-29 grammi così anche tutta la parte della concorrenza oggi stiamo lavorando a 22 siamo prossimi a 21 grammi quindi abbiamo fatto già delle cose e nella politica aziendale non a fronte di queste problematiche di questi concetti mediatici che sono venuti fuori sono cose che già l'azienda ha nella pancia il punto spru è quello di in un'economia circolare perché noi cambiamo in un'economia circolare è quello di utilizzare materiali di riciclo quindi se noi abbiamo un prodotto che può essere utilizzato con materiali vergine, materiali di riciclo noi sposeremo questo punto utilizzeremo materiali di riciclo oggi stiamo utilizzando le nostre bottiglie del latte in PET un 50% di riciclato stiamo andando oltre quello che la comunità europea ci sta chiedendo entro 2025 o entro 2030 massimo col 30% arriviamo al massimo che è consentito il 50% di riciclato l'altro aspetto è quello di a questo punto cercare di utilizzare materiali riciclabili questo è un punto importante questo è il terzo punto materiali riciclabili per noi significa che se è riciclabile vuol dire che c'è una filiera e quindi se c'è una filiera noi siamo chiaramente d'accordo di innovare e cercare di portare dell'innovazione nel mondo del packaging abbiamo come dicevo prima dei monomateriali dove non ci sono problemi ma abbiamo anche dei poliopropiati come abbiamo visto stamattina che sono formati di più diversi materiali plastici che poi all'inizio disponibili quindi se c'è la possibilità di poter utilizzare materiali che possono seguire una filiera di riciclo che può essere un poliopropilene che può essere un polietilene che può essere un polietilene che può essere un polietilene noi stiamo lavorando e stiamo facendo innovazione per fare questo l'esempio che vi voglio dare così toccate con mano una bustina di mozzarella è fatto di un poliopropiato c'è del polietilene e c'è del nylon ma la volontà di farlo così nasce proprio a delle esigenze tecniche del packaging ha bisogno di resistenza alle perforazioni ha bisogno di tante cose aspetti tecniche sto qui a parlarne perché sono quelli i punti focali per poter garantire quel prodotto stiamo cercando di trasformarlo in un monomateriale con grande difficoltà non è una cosa così scontata passare da poliaccoppiati a monomateriali ma comunque ci lavoriamo dall'altra parte io penso che in questa fase quello che è importante è cercare dalla parte le aziende a fare dell'innovazione e quindi noi seguiamo quelli che sono l'innovazione anche con l'input che arriva dalla comunità europea dall'altra parte secondo me dobbiamo metterci insieme tutti le università le aziende gli impianti di riciclo il corepra colai che fa riciclo tutti insieme secondo me dobbiamo cercare di trovare un obiettivo comune che è quello di portare un materiale che dia garazzie al consumatore finale quindi se oggi il consumatore finale ha bisogno di un packaging che è un poliaccoppiato o che è una bottiglia che non è trasparente per poter garantire la sua shift life non possiamo pensare a priori quella la eliminiamo ma cerchiamo di capire come trovare delle filiere nuove e delle innovazioni nuove per poter cercare di adottare anche materiali diversi il quarto punto e poi questo è l'ultimo di cui noi ci stiamo focalizzando è quello di utilizzare materiali che derivano da risorse naturali è addirittura il quarto punto ma non è che noi abbiamo messo quarto punto perché non ha la sua importanza ha una sua importanza fondamentale quello di poter utilizzare dei materiali che siano compostabili che siano biodegradabili abbiamo fatto tante cose noi come azienda anche su questo campo qui della biodegradabilità della compostabilità su diversi materiali su basetti su bottiglie però siamo anche coscienti che in questo momento e questo è un dato di fatto e chi conosce il modo di riciclo gli impianti di riciclo sappiamo benissimo che non c'è una filiera per il recupero di questi materiali quindi dobbiamo porci una domanda per capire dove finiscono anche questi materiali se io vado da impianti di compostaggio vedo degli impianti di compostaggio che dei prodotti di compost che addirittura stanno mettendo da parte le borse le bostine perché hanno problemi di inquinamento del compost perché ci sono residui di questi materiali che vanno atti a cambiare la qualità di quel prodotto allora io non posso permettermi di portare sul mercato continuamente questi materiali quando so a priori che ci sono dei problemi purtroppo però c'è dall'altra parte una parte cooperativa che ci rende anche una tassa e alla fine comincia a dire io ritasso la plastica la tassa viene data solo su materi plastici non vengono compresi le bioplastiche siamo riusciti grazie alla collaborazione che ci hanno che ci ha permesso il ministero di partecipare il nostro presidente ha partecipato ai tavoli di questa PlastiTax per cercare di trovare delle vie un po' diverse rispetto a quando è partita un euro al chilo sulla plastica noi abbiamo posto diverse soluzioni purtroppo però chiaramente non tutte sono state prese in considerazione però almeno quando ci siamo battuti sull'utilizzo del riciclato dove la comunità europea ci dice facciamo economia circolare noi siamo per le comuni circolari se utilizziamo del riciclato e un'azienda deve essere virtuosa bisogna anche prevarla perché diventa il po' quindi hanno inserito anche il tema dell'utilizzo del riciclato quindi una scontistica in funzione del fatto che utilizzo o non utilizzo del riciclato voi considerate per dati solo un numero e poi mi fermo che oggi noi imbottigliamo nel nostro lato circa 320 milioni di bottiglie di plastica 220 milioni di bottiglie di plastica abbiamo praticamente un utilizzo di plastica compreso tra plastica rigida o flessibile di 14.500 tonnellate quindi considerate che tutto questo materiale è un materiale di packaging che comunque a noi serve per poter confezionare questi prodotti con una spesa che è di intorno ai 67-70 milioni di euro di spese sul mondo packaging a questo si unisce adesso questo questa tassa a cui noi dobbiamo considerare su questi numeri di volumi di materiali che non solo la nostra scelta ma se le esigenze avvolge il prodotto comunque andiamo ad incontrare dei problemi che comunque vanno a interferire su quello che può rappresentare poi un fatturato dell'azienda quindi il tema e penso che quello che volevo dire è sicuramente abbiamo bisogno di riflettere molto dal punto di vista giuridico su quelli che sono aspetti tecnici e spero che ci siano sempre di più delle organizzazioni come queste pratee come questi contro o come altri che spesso ci sono a livello nazionale che mettono insieme persone che possono parlare di economia e di aspetti tecnici e quindi da lì far uscire fuori delle considerazioni che ci permettono poi di poter affrontare il mercato senza avere poi delle problematiche finanziarie grazie 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 a tutti.